Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Alta abrianza calcio che si conferma avversario di valore. La nuova Sondrio ci prova, costruisce tanto ma sbaglia altrettanto. E alla fine il pareggio reti inviolate è giusto, anche se entrambe le contendenti meritavano la gioia del gol. A Canzo, undicesima giornata di eccellenza, alta abrianza a Sondrio finisce dunque 0-0. Le azioni più pericolose sono firmate dall'attaccante argentino Busto. Il campo, di dimensioni ridotte, ha sicuramente complicato la vita dei biancoazzurri, ma in questi campionati bisogna sapersi adattare. Nel computo delle occasioni nitide potevamo anche vincere. La clamorosa è stata quella all'inizio di Escudero, solo davanti al portiere, ancora di più quella di Busto a metà del secondo tempo. Abbiamo avuto anche la voglia di provarla a vincere, mettendo anche giocatori davanti che potessero determinare qualcosa di più. Però abbiamo fatto il massimo sforzo di fronte a una squadra che sicuramente, l'ho detto prima, lo ribadisco adesso, farà un campionato ad altissimo livello. Anche il Mapello, sul campo del San Pellegrino, non sfonda e pareggia 0-0. In vetta della classifica dunque resta la coppia Mapello-Sondrio, che sale a 4-24 punti. Dopo il pareggio a Canso, Sondrio, che si prepara per il futuro doppio impegno, Coppa Italia-Campionato. Abbiamo una settimana normale, tra virgolette, potremmo ritornare a lavorare un pochino su tante cose e poi a testa bassa ci ributteremo nel campionato e nella Coppa, che poi ci attenderà mercoledì, come da sempre hanno fatto questi ragazzi. E sicuramente il fatto che ci siamo sorpresi per una domenica senza gol testimonia che la squadra bianco-azzurra ci sta abituando veramente bene. Grazie a tutti.